Poi devo aggiungere, personalmente io credo che non esiste neanche una donna al mondo più fedele, un uomo più fedele di un animale, di un cane, di un gatto, non credo, non esiste perché gli animali sono disinteressati e vanno solo per amore, solo per amore, questo l'ho visto in più occasioni e devo dire che questa è la cosa più reale, ecco perché io dico che poi alla fine bisogna imitargli gli animali, anche a letto, perché secondo me se si è un po' più animali, che si lascia andare e ci si diverte come fanno un po' gli animali, si rischia di divertirsi di più e di farsi meno pippe mentali. Grazie a tutti.